Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nostro nuovo video! Perché muovi le mani, c'è freddo? Sì! Scusa, metti le mani dentro! Io sono XIUDER! Allora ragazzi, è una roba un po' speciale, un po' veloce, amo! Perché siamo qua e cosa c'è alle mie spalle? Siamo qua, c'è quel piccone lì che non so che cos'è perché io non so niente ma deve riscattare quella roba che vedete là dietro! Piano piano, qua sembra che tutti vincono i picconi! Allora, aspetta! Mi hanno dato il codice! Chi me l'ha dato? Quel ragazzo americano? Come si chiama? Sì! Che si chiama? FortniteStore.io È il sito dove di solito diamo le skin, si possono comprare, tutto legit! Gli ha dato questo codice! Come si chiama il piccone? Mintyaz! Brava! Però gli ha detto che non è detto che con quel codice riesce a riscuotere! Perché molte persone invece lo vendono e dicono che lo si riscuote ma non è così! Non è così! Quindi adesso stiamo facendo il video apposta per vedere se riusciamo a riscuotere! Spiego un attimo ai ragazzi che la PAMI ce l'ha messa tutta! Attenzione ragazzi, questo lo dico per voi! Visto che ho visto soprattutto su Instagram tantissimi che vendono e dicono vendono il codice del piccone! Allora, questa persona che mi ha dato il codice ha detto che in realtà inserendo il codice dietro nella pagina si partecipa ad un'estrazione istantanea, il piccone non è garantito! Quindi... Non ci credete, non cascate nei tranelli dei ragazzi! Soprattutto parlate, acquistate solo con Paypal, non pagate con PSN Card, non fate ricariche telefoni! Non sono rimborsabili! No, perché magari questi pensano di prendere il piccone e non è così! Non è così! Allora ragazzi, io sono, come vedete, nella pagina epigames.com slash fortniteit vbucks card Io inserisco il codice che mi ha dato! Puoi dettarmelo, tanto stiamo registrando quindi non è un problema se me lo detti! Devi dettarmi questo! Oh, incrociamo le dita, raga! Dai, lo voglio, porca miseria! R... V... 5... Y... Y... Chi? Izz... Sì! Trattino... Non c'è il trattino, vai! Ah, ok! E... H... Z... E... H... Z... E... 3S... 3S... Poi 9... 5... C... V... Come Verona? Verona... 5... J... Te, J, qual'è la J? La J e la Y... La J o la Y? La J? La J? La J? Una sola! Izz... X... N di Napoli... 3, 7, 8... 3, 7, 8... Controllate giusto! 3, 7, 8... Ci risulta che questo codice non è valido! Allora ok, aspetta! O mi ha tirato una fregata o altrimenti, siccome io sospettavo, proviamo a fare... Fortnite... Punto com... Slash... Redem... Questa invece è la pagina... Di Fortnite normale... Riscatta la tua ricompensa, la reinseriamo... Oh... Forse allora è su questa pagina fort... Allora... Il codice delle V-Bucks card, quindi proprio per i V-Bucks è di là... I premi, quelli proprio nel gioco, invece è su... Fortnite.com slash Redem... Dai, clicca tu e riscatta, porca miseria! Clicca e riscatta... Dai! Fantastico! Non esiste! Me l'hai dato giusto il codice! RD5... YX... EH... Quante S hai messo? Dove cazzo le vedi le 3S? Ma io non ho detto 3S! Ma tu hai detto 3S! No ragazzi, non ho detto 3S! Ascoltami! RD5Y... Ho detto una S! Hai detto 3S! No amore, ho detto una S! Allora, ridimmelo! RD5... R... Dov'è? D! RD5Y... E... E... H... Z... 3S! Ah! 3S! 3S! E vedete che è un babascione! E allora adesso... E poi? C... 9... 5... V... 5... J... Z... No! J... J... It's... N... 3... E' giusto? It's... N... 3... E' giusto? E' giusto? Era quel 3S che l'ha fottuto! Lui ha fatto 3S! 3 e poi S! Clicca riscatta! Scusate quel 3S! Non ci ho pensato! Allora c'è stato un attimo un problema ragazzi! Non ho capito se dall'Italia forse non si può ancora riscattare lo stesso codice che vi ho detto! Quando siamo nella pagina fortnite.com slash vbucks card sotto c'è scritto riscatta questo codice e ti manda alla pagina principale! Quindi vediamo se per caso era un problema di quello! Va bene funziona! Prova a clic... No non è detto che funzioni! Prova a cliccare riscatta! Il mouse porta... Nooooo! Riceverai! Eh random reward! Random loot reward! Non è il piccone! E chi è quella roba qua? Eh non è niente siamo sfortunati! Non è niente! E allora si deve andare ragazzi nel sito di Epic Games! Qua ce lo fa riscattare! Come vedete! Fai conferma! E a questo punto prima di aprire fortnite vediamo! Ok codice riscattato! Codice riscattato! Random loot reward! Non ho capito! Codice riscattato! Sì no il codice l'abbiamo riscattato! Adesso... Ti piace il gelato! Ma come dice ti piace il gelato? Guarda qua ci vedono in 104! Voglio vedere sto aprendo fortnite ragazzi! Vi faccio vedere un attimo con lo schermo! Dai! Ma pensavo che lo vincessimo! Comunque ragazzi! Che sfortuna! Non so quel piccone lì! Random loot reward! Ora io non so cosa... Dai ma che sfortuna! Volevo il piccone! Adesso lo chiamo e ne compro 10! Gli dico... Basta! Eh no! Scusa voglio provare con 10! Voglio provare! Allora come avete visto ragazzi! A parte il macello che è... Funziona! Sei un po' incasinato ma funziona! Però funziona! Lo si riscatta! A parte la figura de merda! Con 3S! Tanto taglio tutto! Loro magari non l'hanno neanche visto la figura de merda! No la figura de merda lascia! Ah quella delle 3S! Sì! Ah sì quella l'hanno visto sicuro! Funziona! Però come vedete non è per forza garantito il piccone! Sto aprendo fortnite! Vorrei capire questo random loot! Volevo vedere cos'è eh! O magari non è nulla ed è su salva al mondo! Secondo me è su salva al mondo! Non capisco cosa possa essere! Però il codice l'ha dato riscattato! Io provo aprire un attimo battaglia reale per vedere! Però non lo so! E infatti qua non ci ha dato nulla! All'ora di salva al mondo! Proviamo aprire salva al mondo! Loot mi è risultato un po'... Vediamo! Io non gioco a salva al mondo non lo so! Ma che cavolo è random loot reward! Sinceramente ragazzi non... Cioè il codice funziona! Risorse progetti zaino! Negozio! Negozio oggetti! Io non so cosa cavolo sia questa cosa ragazzi! Però secondo me... Dovrete semplicemente avere fortuna! Niente boh! Magari la risalva al mondo! Ragazzi! Mi dispiace è andata così! Però almeno spero di avervi un po' schiarito le idee! Di avervi schiarito le idee! Grazie per aver guardato questo video! Grazie ragazzi! Ci vediamo al prossimo video insieme! Un bacio! Ciao! 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 Ciao!